Marco Locascio Senti, io l'ho incontrato di riporti Marco Locascio Sono diversi da quello qui Marco Savastan Marco Locascio Ah si si, come no Quello simpatico, buon Gentilissimo Bravo ragazzo, come sta? L'ho incontrato ieri, ora sta a pezzo Di sotto Mi spiace E come mai? Lui è scambista Ah si? Lo facevo ingegnere, sei da ore o? E che c'entri? Anche la moglie Chiaramente Pure la moglie è scambista Stanno insieme, sono scambisti Scambisti tutti e due Ma non fanno altri Lui è ingegnere, lui è avvocato Ma insomma sono avocchi di scambisti Ma non lo so più Cioè per hobby fanno i scambisti Ma non c'entri più per mestiere, cioè è normale Ma le ferrovie che si c'è A Napoli, alla stazione Infatti sono scambisti Si scambiano dei binari Si scambiano le coppie Vanno in dei posti E lui da la moglie a un altro E si prende la moglie di qui Veramente? Si si sono scambisti Che schifo E che schifo Anche io non Ma veramente fanno Anche io non condivido Però insomma E' questo 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 E' finita La scoperta che la moglie lo tradiva E beh? E' perfetto E' per te Non dovrebbe essere Faccio di scambi E' vabbè Ma quello comunque Questo fa E' vabbè Ma lo fa quando lui era Come di presente Consensuale No? Consenziente Questa cosa E' anzi Lo faceva insieme E' lei lo faceva con un uomo E lui lo faceva con un'altra donna quando tutti erano presenti e quindi l'ha fatto con uno senza scambi uno che non ha la moglie quindi lui senza contropartita ha scoperto che la moglie lo tradiva ha violato le regole del gioco è una separazione per questa che racconta il giudice non mi ha dato la moglie ma tra l'altro anche il giudice è scambista ma pure i giudici e perché poi lui quindi fanno un patteggiamento e si sono tutti scambisti però la regola è che lo devo sapere io e tu lo saluti pure a questo? lo saluto sapendo questo fatto? ma che c'è? schifo di genere e vabbè non condividiamo ma non dobbiamo neanche buttare sono persone di una moralità bassissima va bene va bene ma bassissima non condivido nemmeno io nemmeno la mia donna è sacra basta ma dove? a proposito non è stato voi che c'entra mia moglie? ce l'ha brocchite no? no sta bene ma che c'entra adesso con questo discorso mi parlo a mettere mia moglie in mezzo che c'entra no? non fa niente cioè tu mi dici che aveva la brocchite ho capito non c'entra niente mi tedi fuori mia moglie dopo quando questo discorso ti scambisti è ancora caldo subito aspetto subito quanto devo aspettare? dimmi tu 10 minuti 4 ore ma che devo fare? eh 10 minuti si parla ad altro parliamo ad altro vale che bella giornata no è brutta giornata oggi aspetta un po' come è stato voi? aspetta troppo presto come è stato voi? bene bene sei dimesso sei tornato al lavoro ah quindi è passato ti saluta? eh ti sentito pure Bartolo Gashi vengo a prenderti alle 7 e mezza non farmi aspettare ma perché è stato voi? tu ti sentito pure senza e mi ha fatto? ti sentito pure ti sentito pure tali sentito pure e mi ha fatto? tu sentito pure